Musica Torna ad accendersi la movida pescaiolina con la sesta edizione di Pescaiola da vivere, la festa di quartiere targata Confcommercio. Oltre 100 le attività che prenderanno parte alla manifestazione in programma per sabato 10 giugno nell'area compresa tra via Alessandro Dalborro, via Benedetto Croce e largo primo maggio, che per l'occasione diventerà un'oasi pedonale. È un evento molto sentito in generale, molto sentito da questo quartiere pescaiola, che proprio più che un quartiere è una città dentro la città. Ci abbiamo creduto sei anni fa e continuiamo a crederci con la stessa forza, proponendo tutti gli anni cose diverse. Una cosa che anticipo e che mi fa molto piacere è che da qui proprio sabato partirà per la prima volta un premio, che è il premio quartiere del commercio, dove a turno e a giro premieremo le attività di oltre 30 anni nella stessa location con un premio simbolico e un riconoscimento. La Camera di Commercio ha dato il proprio patrocinio a questo tipo di iniziativa perché sono iniziative intelligenti che sensibilizzano e vitalizzano i quartieri della nostra città. Il commercio di vicinato, voglio ricordarlo, è un elemento indispensabile anche per il presidio sociale della città, dove c'è l'esercizio commerciale, dove c'è vitalità, dove c'è l'illuminazione dei negozi. Ecco, è un deterrente anche verso una possibile eventuale degenerazione di alcune realtà. I riflettori si accenderanno alle 17, alle 19 il taglio del nastro e la festa proseguirà sino a mezzanotte. Sport, animazioni, musica, intrattenimento, spettacoli e per la prima volta anche una grande aria verde, Pescaiola Green lo abbiamo chiamato, proprio per significare un'area relax dove tutti i visitatori potranno rilassarsi gustandosi tutte le specialità della strada e soprattutto vedendo tutte le attività presenti in Pescaiola. Grazie.